Io sono Davide Comaschi e sono di Milano. Ad oggi lavoro a Bruxelles per la più grande compagnia di cioccolato al mondo e sono il responsabile a livello globale per quello che è la creatività del brand. Come ho cominciato la mia carriera? L'ho cominciata a 13 anni e mezzo. Ho cominciato subito con una scuola alberghiera e nel frattempo lavoravo in laboratorio e man mano mi sono specializzato in pasticceria, in cioccolateria fino ad arrivare a conoscere il mondo dei concorsi. Ho partecipato a due concorsi mondiali, uno nel 2011 a Lione. L'anno dopo invece ho partecipato come singolo al campionato più prestigioso che c'è al mondo di pasticceria e cioccolateria che è il World Chocolate Master a Parigi dove c'erano 22 nazioni a concorrere e ho vinto il titolo mondiale. È stato l'unico italiano e ad oggi ancora è solo ad averlo vinto. L'anno scorso abbiamo fatto il Guinness dei primati per il panettone più grande al mondo, il panettone artistico più grande al mondo e dopo di questo invece ho cominciato tutta la mia carriera fino ad arrivare al Fort Village dove ho aperto il mio primo spazio di altissima cioccolateria e pasticceria. Per i nostri clienti del Fort Village abbiamo creato in questa cioccolateria di lusso una linea che si chiama Galaxy, è dedicata alle divinità romane perché è così particolare ho utilizzato lo stampo con quale ho vinto il campionato del mondo di cioccolateria e questo stampo è stato riconosciuto come lo stampo più innovativo negli ultimi 80 anni nel mondo del cioccolato. Questo sia la parte di design che la parte di gusto ovviamente è molto ricercata, molto particolare sono dei gusti semplici ma ricercati nei minimi dettagli e poi abbiamo anche tutto un assortimento di biscotti sempre a base di cioccolato e questi piccola pasticcere mignon che sono dei gioiellini e anche la parte di monoporzioni quindi ce n'è per tutti i gusti, di tutti i tipi proprio per andare a fare questa ricercatezza nel mondo del dolce, nel mondo del cioccolato per riuscire a dare anche a quei palati più golosi e più ricercati il gusto e quello che meritano. Ci vuole pochissimo a fare un buon prodotto ci vuole veramente tanta ricerca per fare un prodotto d'eccellenza questa penso sia la grande differenza e il consiglio che vi posso dare è assolutamente prima di andare via dal Fort Village dovete assaggiare una delle praline della linea Galaxy.